Di sovranità monetaria si parla molto, si parla tanto, si parla a volte anche senza conoscere perfettamente i termini. L'associazione Nuove Sintesi di Bellante invece sta facendo da tempo un'opera di sensibilizzazione sui temi della sovranità monetaria e in questo a caso anche su quello che viene definito l'incubo dei banchieri nel corso di un incontro che si terrà sabato prossimo a Bellante. Il trasferimento di sovranità a tutti i livelli della politica estera, industriale, energetica, monetaria, agricola, fiscale e di recente anche legislativa espone il nostro Paese agli effetti più devastanti della globalizzazione senza che lo Stato abbia gli strumenti per reagire. La Banca Centrale Europea non è una banca centrale ma è una finanziaria fatta da soci privati che fa speculazione. Le banche commerciali a loro volta fanno trading finanziario e il tesoro è in balia dei mercati. All'interno del Paese l'unica fonte rimasta di generazione di liquidità è la ricchezza privata che purtroppo sta sciogliendosi come un ghiacciaio. Le formule salvifiche basate sull'immediata uscita dall'euro, sull'implementazione di politiche di deficit pubblico o su presunte rinegoziazioni dei trattati europei risultano essere piuttosto dei proclami elettorali irrealizzabili nel breve e che finiscono soltanto con il rafforzare il fronte eurista che accusa la galassia euroscettica di mancanza di credibilità. Questi concetti verranno spiegati esaustivamente dal professor Michalizzi. Vi aspettiamo quindi numerosi sabato 6 dicembre alle ore 17 presso la sala consigliare del comune di Bellante a Bellante Paese.